Comandante, la consacrazione dell'operazione Mare Sicura è arrivata ieri a Roma nel corso di una cerimonia è stata presentata dal comandante generale del Corpo delle Capitanerie di Porto insieme ai Ministeri delle Infrastrutture e Trasporti e dell'Ambiente e il Ministero delle Politiche Agricole e Alimentari e Forestali. 25 anni di successi. Sì, 25 anni di controlli assidui delle nostre donne e uomini del corpo per prevenzione, per prevenire eventuali problemi che ci possono essere a mare, per la sicurezza in mare, per la filiera della pesca, per l'ambiente, per tutelare il nostro patrimonio naturalistico ma specialmente per tutelare la vita umana in mare. L'operazione Mare Sicuro è più un'operazione di prevenzione, prima di tutto un'operazione di prevenzione e in seconda battuta di repressione, ma voi tendete a dare invece delle informazioni anche grazie al bollino blu che consente di vivere serenamente il mare in estate? Allora, sì, chiaramente prima viene fatta la prevenzione, soprattutto per quanto riguarda, sono state fatte opinioni di coordinamento sia con i gestori, con gli enti comunali, anche con le forze poliziere entranti in mare, dove abbiamo un po' detto quali sono le linee guida di questa operazione Mare Sicuro. Il bollino blu è taggettato, taggato e attagliato soltanto per i diportisti, ad eccezione di chi per gli acquascute, che non rientrano in questa agevolazione del bollino blu. I diportisti più virtuosi si fanno controllare sia a terra che a mare, una volta che le dotazioni di sicurezza risultano a posto, le documentazioni risultano ok, viene rilasciato questo bollino blu e permette la navigazione tranquilla, la giornata tranquilla di mare, senza essere controllati più volte dalle varie forze operanti in mare. Chiaramente tutto questo viene meno quando il diportista assume un comportamento contra l'Egem. Siamo ancora ad inizio stagione ma sono già state elevate da parte vostra 23 sanzioni e si è registrato uno sversamento. Che cosa rischia chi non rispetta le regole? Chi non rispetta le regole rischia, in questo caso per una sosta in spiaggia, rischia una sanzione amministrativa di 206 euro. Ma anche noi possiamo non contestarli sul momento ma attraverso le fotografie riusciamo a risalire dalla banca dati del ministero, il proprietario, quindi mandiamo tutto a casa con la sanzione amministrativa direttamente a casa. Per quanto riguarda lo sversamento abbiamo avuto a fine maggio, durante le piogge che ci sono state a fine maggio, un sversamento al lato levante del porto rifugio dove c'è il troppo pieno dell'ente gestore di calta acqua di acque fognari. Abbiamo fatto le analisi, abbiamo portato tutto all'ARPA, stiamo attendendo risultati delle analisi e poi vediamo un attimo cosa fare anche perché dobbiamo mandare il rapporto totalmente alla provincia. Invece di portisti che pongono in essere una condotta negligente e quindi non rispettano le regole, cosa rischiano? Rischiano il verbale amministrativo che è super giusto i 100 euro o 200 euro, dipende anche il tipo di unità navale. Per quanto riguarda gli acquascute, chi va sotto costa e fa una navigazione sotto costa rischia il verbale per navigazione sotto costa. Ma se questa navigazione si perpetra tra i bagnanti può essere anche sanzionato penalmente e rischia anche la confisca del mezzo.